buongiorno o bentornati nei video tutorial dedicati ad arcadia 14 e vediamo adesso come poter realizzare un'altra funzione utile nel menu terreno quindi per la modellazione del terreno vediamo come utilizzare la funzione converti numero in punto quotato arcadia lavora come già sappiamo nel formato dvg quindi io semplicemente ho importato un file aperto un file dvg con all'interno le ho evidenziate di rosso l'entità appunto con a fianco la quota del punto infatti arcadia dà una funzione in cui permette di convertire il testo della quota in un punto quotato per generare quindi il piano quotato vediamo come si procede innanzitutto andiamo a verificare che nell'asse della vista proprietà vista ci sia praticamente unità definita media ok scusate in metri e adesso andiamo a utilizzare la funzione converti numero in punto quotato il programma mi chiederà di selezionare tutti i testi interessati tasto destro e confermiamo il processo di elaborazione vedete qui in anteprima tutto il punto è stato tutte le quote sono state praticamente convertite in punti quotati quindi tutti i testi sono stati modificati quindi io posso adesso tranquillamente andare a spegnere le informazioni di vista dello sfondo e qui avremo praticamente il nostro modello adesso vado ad aprire anche il modello dettagliato del nostro praticamente terreno quindi questo mi dà la possibilità anche di andare a modellare velocemente quello che il mio terreno se ho di base di partenza un piano votato di riferimento